A tutti un buon pomeriggio dall'Arcoveggio, convegno di gioia di 7 dicembre, prima corsa una maiden riservata ai due anni, sono in nove al Viedo per il tiro di Frida, di no, questo lo schieramento, Fergus del Ronco, Firework Pink, Flacafont, Filo d'Aromatto, Fanny Breed, Filosprez in prima fila, Fort Washakie, Philo of the Bus e Freysa dei Greppi in seconda. Il pronostico vede Fanny Breed rientrante, favorita numero 5 dello schieramento, macchina intanto che accelera, parte piano Filosprez mentre si avvantaggia subito Flacafont attaccato a largo da Fanny Breed che insiste nella sua progressione, Flacafont però conquista il comando, vedremo ora le mosse di Antonio Di Nardo, che lascia sfilar Fanny Breed che guida dunque dopo 200 metri sulla stessa Flacafont in terza posizione, dovrebbe essere Fergus del Ronco, Filo d'Aromatto, Fergus del Ronco nelle posizioni di rincalzo, via via tutti gli altri. Se ne vanno i 400 iniziali, intanto in 33 con Fanny Breed che conduce su Flacafont, completamento dei 600 in 46 e 6 e ora davanti alle tribune dopo i primi 700 metri di gara, vediamo la mossa esterna da parte di Filosprez che avanza dalle retrovie, in terza posizione c'è Fergus del Ronco davanti a Filo d'Aromatto, mentre percorsi esterni cerca di farsi luce anche Fort Washaki, 1, 2 e 1, in passaggio agli 800, cavalli sulla penultima piegata, sempre condotti da Fanny Breed, Flacafont in scia, all'esterno si impegna Filosprez, se ne va intanto il chilometro nell'ordine dell'1, 17 e mezzo, con la favorita Fanny Breed che conduce, seconda posizione rimane Flacafont davanti a Fergus del Ronco, cala invece Filosprez, cavalli al paletto dei 400, con situazione tattica invariata, cerca di venire via in terza ruota, Fort Washaki, intanto sempre in vantaggio Fanny Breed nei confronti di Flacafonte di Fergus del Ronco che sposta all'esterno, siamo ai 100 conclusivi, Fanny Breed non ha problemi a concludere la sua prestazione, vincente, al rientro, Fanny Breed e Roberto Vecchione, secondo posto per Flacafont, al terzo finisce Fergus del Ronco, 1, 16 e 1, 29 e 6 a chiudere, ottimo rientro da parte di Fanny Breed che vince così la sua prima corsa in carriera, Roberto Vecchione al Insalchi, Afrim Smidra al training per la prima per il trainer, per conto dell'azienda agricola Parlari. Grazie. Grazie. Grazie a tutti